Ci siamo quasi, si inizia già a parlare di halving di bitcoin. L'halving di bitcoin è uno degli eventi più importanti nel settore delle criptovalute, non solo per bitcoin. È un evento molto seguito che ha un impatto notevole proprio sulla blockchain di bitcoin. Questo fenomeno che si verifica circa ogni 4 anni ha avuto in passato un impatto diretto sulla nuova emissione dei bitcoin immessi nel mercato e dunque ha avuto anche un impatto sul prezzo di bitcoin. C'è grande attesa quindi per capire quale potrà essere il prezzo di bitcoin ma anche quale impatto avrà sul network. In questo contenuto quindi analizzeremo nel dettaglio il fenomeno dell'halving, la sua importanza e quale impatto potrà avere direttamente sul mercato. Resta fino alla fine perché faremo un breve cenno anche al security budget, un tema molto discusso all'interno della comunità bitcoin che sarà molto importante per il futuro e la sicurezza del network stesso. Sono tante le cose da dire quindi non perdiamo altro tempo e partiamo! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi finalmente torniamo a parlare di bitcoin, in particolare ci concentreremo sul fenomeno dell'halving. Ma che cos'è l'halving? L'halving di bitcoin è un evento periodico che avviene sulla blockchain di bitcoin e che consiste nel dimezzamento delle ricompense ai miners che si occupano di validare le transazioni. Prima di continuare, dato che ho notato che la maggior parte di voi vede i video senza iscriversi al canale, ti invito quindi a mettere un bel mi piace, attivare le notifiche e naturalmente iscriverti al canale per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. Detto questo, torniamo all'halving. La ricompensa attuale per ogni blocco estratto o minato dai miners nella rete di bitcoin è di circa 6,25 btc. Con il prossimo halving previsto per il 2024, come abbiamo visto, la ricompensa per i miner si dimezzerà e quindi scenderà a 3,125 bitcoin per blocco. L'halving avviene circa ogni 4 anni, ma sarebbe più corretto dire ogni 210.000 blocchi minati. Questa cadenza quadriannale dipende da come è strutturato il protocollo di bitcoin e dalle sue regole, che cerca di trovare un blocco circa ogni 10 minuti. L'halving quindi non fa altro che dimezzare il tasso di emissione dei nuovi bitcoin, riducendo quella che è l'offerta totale. Questo in passato ha influenzato l'equilibrio tra domanda e offerta, facendo crescere in modo esponenziale il prezzo di bitcoin. L'obiettivo finale di questi eventi è quello di raggiungere il limite massimo previsto dal protocollo, che è di 21 milioni di bitcoin emessi. Si prevede che l'ultimo blocco minato di bitcoin sarà circa nel 2140. Se questi concetti ti sono poco chiari, prima di iniziare ti consiglio di partire dai nostri video gratuiti che trovi sul canale di webeconomia.it, ad esempio questo video che stai vedendo in sovraimpressione, che ti lascio qui sopra e spiega il funzionamento della blockchain e di bitcoin. Prima di proseguire spieghiamo un concetto molto semplice di bitcoin, che è il modello di ricompense o il modello di reward adottato dal protocollo. Si parla quindi di block subsidy, che è in pratica la quantità di nuovi bitcoin coniati in ogni blocco. Ogni blocco prodotto e aggiunto alla blockchain consente al miner di coniare una certa quantità di nuovi bitcoin in base al tasso di emissione corrente deciso dal protocollo e applicato dai nodi della rete stessa. Quindi da cosa è costituita la block reward? Si parla di block reward per indicare la ricompensa che i miners ricevono per l'estrazione di un nuovo blocco. La ricompensa del blocco di bitcoin è composta quindi da due parti, la block subsidy e le commissioni di transazione o fees pagate dagli utenti. Attraverso la somma di queste due componenti si ottiene la ricompensa per blocco o block reward. Perché è importante questo concetto? La block subsidy rappresenta il meccanismo attraverso cui vengono emessi nuovi bitcoin ed immessi in circolazione. Al tempo stesso incentiva i miners a validare onestamente nuovi blocchi e a contribuire alla sicurezza della rete. La subsidy viene corrisposta con la cosiddetta coinbase transaction, ovvero la prima transazione contenuta in ogni blocco che non ha input e genera output praticamente dal nulla. I bitcoin generati non sono però spendibili dai miner prima dei 100 blocchi successivi. Questo evita dei comportamenti di tipo speculativo, cioè col fatto che possano subito vendere. Ogni blocco, come sapete, contiene transazioni, ciascuna con una fee associata che incentiva la conferma della transazione stessa. Dal momento che il block subsidy si dimezzo ogni 4 anni, le fee di transazione compenseranno sempre di più la riduzione di questa quantità, fornendo comunque l'incentivo per i miner a continuare a fornire hash rate alla rete. Come vedete qui, nel 2140 questo valore andrà a zero e i miners guadagneranno praticamente solo le fee di transazione. Abbiamo detto quindi che l'halving è un evento periodico che si verifica circa ogni 4 anni. Finora nella storia di bitcoin si sono verificati 3 halving nel 2012, nel 2016 e nel 2020. Il prossimo halving atteso è quello del 2024. In ognuna di queste occasioni la ricompensa si è dimezzata, passando da 50 bitcoin per blocco a 25 bitcoin nel 2012, poi a 12,5 nel 2016 e infine a 6,25 bitcoin nel 2020. Vedete in questo grafico come siamo partiti da una situazione pre-halving 2012 in cui i miner ricevevano 50 bitcoin per ogni blocco minato, per poi dimezzarsi con il passare degli halving. Attualmente il prezzo di bitcoin al momento della registrazione di questo video è di circa 27.000 dollari, ma vedete come si è evoluto durante il corso degli halving. Quando sarà minato l'ultimo blocco, i miners praticamente non riceveranno alcun bitcoin per il loro lavoro, ma guadagneranno soltanto le fee di transazione. L'halving ha quindi degli effetti cruciali sulla domanda e offerta di bitcoin. Riducendo la quantità di nuovi bitcoin generati dal mining, l'offerta complessiva rallenta la sua crescita. Al tempo stesso la minore offerta tende a far aumentare la domanda e quindi il valore di bitcoin, compensando in parte la riduzione delle ricompense per i miners. Vedete qui che mancano poco più di 200 giorni al prossimo halving. L'offerta attuale di bitcoin è pari a circa 19,5 milioni di token a fronte di un limite massimo di 21 milioni previsto dal protocollo. I bitcoin ancora da estrarre attraverso il processo di mining sono dunque circa 1,5 milioni, cioè bitcoin è un bene scarso. Questo meccanismo ricorda la limitata presenza di metalli preziosi, come ad esempio l'oro, così come per loro la minore disponibilità di nuovi bitcoin creati spinge verso l'alto la domanda e di conseguenza il prezzo, compensando la riduzione delle ricompense per i miner. Gli halving rappresentano quindi questi eventi chiave che plasmano l'offerta e guidano il valore di bitcoin nel tempo grazie a dinamiche di mercato ispirate alla scarsità. Qui nel grafico vedete come varia l'emissione della moneta e dunque il tasso di inflazione. Poiché conosciamo l'emissione di bitcoin nel tempo, possiamo fare affidamento su un'offerta programmata e controllata. Questo è utile per capire qual è il tasso di inflazione attuale di bitcoin, quale sarà il tasso di inflazione futuro in un determinato momento, quanti bitcoin sono in circolazione e quanti ne rimangono da estrarre. In pratica bitcoin è un asset deflazionistico in quanto la sua emissione tende a rallentare progressivamente nel tempo. Un modello completamente diverso dall'emissione delle monete fiat che come sapete possono essere stampate a piacimento dalle banche centrali. In passato gli halving sono stati seguiti da un notevole rialzo del prezzo proprio per queste dinamiche di mercato. Ma cosa è successo al prezzo dopo l'halving? Come abbiamo detto nel 2024 i miners riceveranno circa 3,125 BTC come ricompensa più le fidi transazioni nel blocco. Nel 2020 il prezzo come vedete era partito da circa 8.700 dollari e iniziò a salire per qualche mese per poi arrivare alla cavalcata che tutti conosciamo con bitcoin che raggiunse il suo massimo storico nel 2021 arrivando a toccare la cifra record di 68.789 dollari. Se scorriamo su in questa pagina sullo storico delle statistiche vedete che il prezzo proprio è arrivato a toccare quasi i 69.000 dollari. Inutile dire che la speranza di molti investitori è che la storia si ripeta che bitcoin raggiunga cifre ancora superiori. Prima di arrivare a fare qualche riflessione qualche cenno sul mining che ci aiuterà a creare il contesto per la nostra discussione. Come sapete la blockchain è un enorme database o registro distribuito su più nodi in cui vengono archiviate le transazioni. I dati contenuti in questo registro sono memorizzati su più macchine e nodi collegate tra loro via internet e sono questi i protagonisti della rete bitcoin piuttosto che i miners. Il fatto che la blockchain sia infatti distribuita su più nodi crea di fatto la decentralizzazione e questo è importantissimo anche per creare il cosiddetto consenso distribuito ovvero tutti devono essere d'accordo sulla stessa versione della blockchain. Quando parliamo di mining facciamo riferimento proprio al tema della sicurezza della rete. Il mining quindi non è altro che il processo attraverso il quale nuovi bitcoin vengono generati e le transazioni sulla rete vengono validate e registrate sulla blockchain. Il mining contribuisce quindi ad alimentare il sistema di fiducia usato da bitcoin che si basa sulla proof of work dunque su un calcolo computazionale o sulla cosiddetta prova di lavoro. Questo richiede al miner di dimostrare di avere effettuato un certo lavoro per poter aggiungere un blocco valido alla blockchain. Qui vedete in sintesi il funzionamento questo lavoro consiste nel risolvere complessi algoritmi crittografici un processo che è molto dispendioso e che rafforza la sicurezza della rete. Una volta che un blocco è stato completato viene aggiunta la catena esistente in modo permanente e inalterabile e per questo sforzo computazionale i miners ricevono un profitto che è composto dalla ricompensa dei nuovi bitcoin previsti dal protocollo più le fisi di transazione inserite all'interno di quel blocco. Questo è il cuore pulsante del sistema bitcoin e la difficoltà di questo problema matematico da risolvere si adatta nel tempo per assicurare che la creazione di nuovi blocchi rimanga costante e che sia circa ogni 10 minuti. Maggiore è la potenza di calcolo impiegata maggiori sono le possibilità di validare il blocco e ottenere così la ricompensa dunque più sicura e immutabile sarà la blockchain. Più che un meccanismo per estrarre nuovi bitcoin il mining è un pilastro grazie al quale la sicurezza di bitcoin diventa effettivamente decentralizzata. La rete di bitcoin come sapete ha infatti bisogno di un consenso distribuito e questo è reso possibile proprio grazie al mining e a questo meccanismo di ricompense. Ma quali sono le implicazioni per i miner? L'alvin come sapete ha conseguenze dirette anche sui miner la riduzione di questa ricompensa rende più difficile il break even dell'attività di mining se l'evento però porta a un incremento del valore di bitcoin come è avvenuto in passato ecco che i profitti dei miner possono rimanere consistenti. Chiariamo subito il fatto che l'alvin di bitcoin ha innescato una reazione a catena nell'intero ecosistema in passato il dimezzamento della ricompensa per i miner porta infatti ad un rallentamento dell'offerta dei nuovi bitcoin generati se l'evento causa però anche un incremento della domanda ecco che il prezzo tende a salire ed è quello che sperano sia i miners che gli investitori. In questo modo i profitti dei miner rimangono consistenti nonostante le minori ricompense poiché il valore complessivo di ciascun bitcoin estratto aumenta dopo l'alvin. Che succede però se il prezzo di bitcoin non aumenta come ci si aspetta? C'è il rischio quindi che i miners decidano di spegnere le macchine o che si riduca la potenza di calcolo di tutto il network? Il protocollo di bitcoin è stato progettato per adeguare la difficoltà in modo dinamico anche quando non ci sono impennate nel prezzo in modo da garantire l'operatività della rete. In questo modo estrarre nuova moneta richiede meno potenza di calcolo e quindi meno energia bilanciando quelli che sono i guadagni ridotti. Capite bene quindi che tutto questo discorso ha un senso finché le ricompense di bitcoin rimangono comunque elevate. Come abbiamo già detto nel 2140 le ricompense per i miners andranno a zero quindi guadagneranno soltanto dalle fees di transazione. Saranno sufficienti quindi solo le commissioni ai miners per sostenersi economicamente? O spegneranno le macchine? E in questo ultimo caso quindi ci chiediamo ancora una volta la sicurezza di bitcoin è a rischio? Tra poco parleremo di questo problema che va sotto il nome di security budget. Molto importante è dunque il concetto dell'ash rate. Il protocollo bitcoin come sapete mira a mantenere un tempo costante di 10 minuti per l'estrazione di ognuno al blocco indipendentemente dalla potenza di calcolo sulla rete. Questo target viene raggiunto grazie a un aggiustamento periodico della difficoltà di mining così da compensare variazioni dell'ash rate complessivo cioè la potenza di calcolo messa in gioco. Ovviamente è molto difficile calcolare questo parametro cioè il total hash rate e questi grafici si basano prettamente su delle stime. Nel 2140 quando tutti i 21 milioni di bitcoin saranno stati estratti non ci saranno più ricompense da assegnare nuovi blocchi e quindi come guadagneranno i miners? Secondo alcuni i miners rimarranno incentivati a validare transazioni perché indispensabili al funzionamento della rete e beneficiare delle fee in costante crescita. Cioè per avere un aumento costante di queste commissioni ci vuole l'adozione se la rete verrà utilizzata allora le transazioni bitcoin costeranno molto e i miners guadagneranno dalle commissioni anche se le ricompense per il blocco non ci saranno più. Quello che molti segnalano come un potenziale problema per bitcoin va sotto il nome di security budget ed è legato proprio al fatto che l'ultimo halving di bitcoin cambierà l'ammontare delle revenue destinate ai miners. Ma che cos'è il security budget? Si tratta in buona sostanza della somma di tutte le revenue destinate ai miners per proteggere la blockchain tramite la potenza di calcolo che impiegano nel mining. Si tratta quindi di una cifra di svariati miliardi di dollari anche difficile da quantificare con esattezza. Questa cifra rappresenta gli incentivi monetari per i miner a mantenere elevata la sicurezza della rete validando le transazioni in modo onesto tramite la proof of work. Più alto è il security budget maggiore la shrate e quindi la resilienza della blockchain agli attacchi come il famoso attacco del 51% cioè qualcuno che riesce a prendere il controllo di più di metà del network. Se questo budget scendesse troppo quindi la sicurezza di bitcoin potrebbe essere a rischio. Ma è proprio così? L'argomento è molto complesso e richiede quindi un ulteriore approfondimento che probabilmente farò in altro video. Fammi sapere qui sotto nei commenti se ti può interessare questo argomento. In vista dell'Halving del 2024 gli analisti formulano delle previsioni su come impatterà l'evento sul prezzo di bitcoin. Toricamente gli halving hanno portato ad un apprezzamento di BTC dovuto agli effetti sull'offerta e la domanda. Molti ritengono che questo schema sia destinato a ripetersi con proiezioni di prezzo tra i 100 e i 300 mila dollari nei mesi successivi all'Halving del 2024. Queste previsioni però secondo me lasciano il tempo che trovano nessuno può dire con certezza che cosa farà il prezzo. Quindi fate le vostre ricerche personali prima di investire. Bisogna essere anche più cauti dopo l'attuale contesto macroeconomico che stiamo vivendo. Non sappiamo ad esempio se verranno approvati i famosi ETF spot su Bitcoin non sappiamo come si muoveranno le banche centrali nei prossimi mesi non sappiamo se il prezzo di Bitcoin aumenterà effettivamente come in passato. Siete quindi così certi che il prezzo di Bitcoin raggiungerà un nuovo massimo storico? Molti affermano che infatti l'andamento di Bitcoin è ciclico e questo lo sappiamo ed è un fattore noto a tutti. Ma questo non significa che nel prossimo ciclo la storia si ripeterà esattamente come abbiamo visto in passato. Magari potrebbe raggiungere ad esempio una cifra inferiore o gli investitori istituzionali che entreranno nel mercato probabilmente inizieranno a manipolare il prezzo. Insomma non abbiamo la certezza che si verificherà un nuovo all time high. Vi lascio quindi con questo dubbio fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E arriviamo a una domanda che molti mi fanno sul canale è tardi per comprare Bitcoin? Naturalmente non possiamo dire con certezza se è tardi per farlo. Sul mercato ci sono opinioni contrastanti tra chi ritiene Bitcoin una riserva di valore che invece lo considera solo un asset speculativo. Come tutte le criptovalute Bitcoin è influenzato anche dalla percezione sociale che abbiamo di questo asset. Le statistiche ci confermano che anche chi è entrato nel mercato in questi anni è comunque in profitto. Inoltre ci sono molti investitori che richiedono a gran voce l'approvazione di strumenti regolamentati per investire su Bitcoin come ad esempio i famosi ETF e spot. Qualcosa si sta muovendo in questo senso con colossi come BlackRock, Fidelity e Grayscale che hanno presentato le loro richieste di approvazione per il lancio di un ETF che investa fisicamente in Bitcoin. Questo vi ricordo che vale per il mercato statunitense perché in Europa ci sono già questi strumenti regolamentati e possiamo dire con certezza che non hanno avuto questo grosso successo. Detto questo però possiamo fare alcune considerazioni. Bitcoin ha ancora una capitalizzazione di mercato relativamente bassa rispetto ad altri asset class come oro, azioni e obbligazioni. Quindi c'è ancora ampio spazio di crescita se l'adozione aumenta. L'offerta è poi limitata a 21 milioni di token e il prossimo halving ridurrà ulteriormente il nuovo flusso. Questa scarsità potrebbe portare a un apprezzamento nel lungo termine. L'infrastruttura e l'ecosistema intorno a Bitcoin e le criptovalute si stanno espandendo rapidamente il che aumenta l'utilità e il valore potenziale. Ci sono tantissime aziende che stanno sviluppando sulla blockchain tanti servizi. Inoltre gli investitori istituzionali stanno entrando nel mercato stanno aumentando la loro esposizione a Bitcoin anche in ottica di diversificazione del portafoglio e questo è sicuramente un aspetto positivo. Bitcoin poi attrae ancora molto interesse speculativo cioè la fomo la paura di perdersi qualcosa il che potrà far salire rapidamente il prezzo. Se volete comprare comunque Bitcoin vi lascio in descrizione tutti i links ai principali exchange per comprare criptovalute e ai broker che permettono anche di fare trading. Ci sono poi alcuni broker come Scalable Capital di cui ho parlato sul canale che permettono ad esempio già di utilizzare strumenti regolamentati come gli ETP sulla borsa di Francoforte dateci un'occhiata se vi interessa e ve li lascio qui sotto e in descrizione. Bene siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo visto che cos'è l'halving e quale impatto può avere nel mercato delle criptovalute e soprattutto su Bitcoin. Il prossimo halving come sapete è fissato per l'inizio del 2024. Come abbiamo detto l'halving tende a ridurre l'offerta dei nuovi Bitcoin e in passato ha portato anche a un rialzo del prezzo rendendo ancora più appetibili le fees da parte dei miners. Ci sono però delle convinzioni su cui riflettere non è infatti detto che il prezzo di Bitcoin raggiunga un nuovo massimo anche in questo ciclo. Non c'è alcuna certezza che questo ciclo ripeta i risultati del passato né che trascini con sé tutto il settore delle criptovalute. Magari avverrà ma non c'è alcuna certezza. Quindi non investite a caso in criptovalute e non seguite questi fuffaguru che vi dicono che il prezzo di Bitcoin andrà a un milione di dollari o che trascinerà con sé tutte le altcoin che esploderanno come prezzo. Vi ricordo sempre di essere analitici e attenti a questi aspetti e a non dare per scontato nulla. Le condizioni di mercato del 2024 probabilmente saranno molto diverse da quelle del passato come stiamo vedendo e sarà fondamentale fare le proprie valutazioni personali per cercare di investire in un asset finanziario quando si è veramente convinti e quando si conosce l'argomento. Spero che le informazioni di questo video ti aiutino a capire cosa sta succedendo effettivamente nel mercato e quali potranno essere le dinamiche future. Naturalmente ti invito a iscriverti al canale per supportarci a mettere un bel like e attivare tutte le notifiche per rimanere aggiornato con i prossimi contenuti. In questo modo aiuterai speriamo l'algoritmo di YouTube a diffondere questo video. Io ti ringrazio come sempre per l'attenzione ti aspetto nei commenti ti saluto e ci vediamo al prossimo video.